Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni a medio e lungo termine. Andiamo a vedere cosa accadrà verso la fine della prossima settimana, il weekend del 7-8 febbraio. Beh, guardate, la situazione in realtà non cambia di molto anche a livello europeo. L'alta pressione, che poi è l'anticiclone della Zorre, continua a rimanere confinato sull'Atlantica e sull'Europa occidentale. E così buona parte dell'Europa centro-orientale continua a sentire l'influenza di correnti fredde settentrionali in arrivo addirittura dal circolo polare artico. Quindi ancora molto freddo in gran parte del continente e nuovamente questa circolazione depressionaria coinvolgerà anche l'Italia. Ma come al solito, con l'arrivo di queste correnti settentrionali, penalizzate saranno soprattutto le regioni centro-meridionali e in particolare il versante adriatico. E allora andiamo a vedere un po' più in dettaglio che tempo dovrebbe fare il prossimo weekend, con ancora acquazzoni nelle regioni meridionali, anche su quelle del medio adriatico, precipitazioni che localmente potrebbero essere anche piuttosto intense, ma soprattutto con il rischio di nevicate fino a quote molto basse, forse addirittura quasi fin sulle coste, sulle regioni del medio adriatico. Invece situazione migliore al nord sull'Alto Tireno in Sardegna, dove non mancheranno ampie scherite, anche se le temperature comunque in tutta Italia rimarranno relativamente basse. Sotto lo zero di notte a primo mattino al nord e valori contenuti anche al centro-sud. Ma rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti, per verificare anche se queste nevicate effettivamente interesseranno anche le zone costiere, o con la nostra app gratuita o su trebimeteo.com